Benvenuti e benvenuti sul Rasto TV, io sono Vittore, questo è il mio secondo canale, il mio primo canale YodaJ, link ve lo lascio giù nella descrizione e nel primo canale praticamente tratto principalmente il tema calcio, però ci sono anche dentro altri contenuti l'esigenza quindi di portare contenuti sempre più diversi e tema diversi mi spinge a creare questo secondo canale che quindi sarà un canale praticamente multitema, quindi ci potranno essere dei contenuti che variano dallo sport all'attualità quindi quello che ci circonda, al gaming perché comunque mi piacciono i giochi prevalemente al retro però insomma non disdegno anche i giochi diciamo moderni, al trading online quindi alla finanza, a quello che è la criptovalute a quello che è il forex, il bitcoin, insomma concettualmente sono delle cose che diciamo stanno andando molto nell'ultimo periodo al guadagno online quindi forme di guadagno online di quelle che possono sembrare insomma delle attività delle piccole attività hanno da poter arrotondare diciamo così a fine mese al mondo dell'informatica visto che sono informatico quindi magari linguaggi di programmazione, videocorsi a tema alle recensioni di beni, servizi, prodotti, eventualmente anche di film quindi diciamo che la programmazione di questo canale è molto ampia, 360 gradi su quello che possono essere temi di interesse generale quindi da parte mia l'obiettivo è il massimo sforzo affinché si possano portare sempre dei vari contenuti insomma spero, reputo, che io reputo interessanti e da parte vostra dice un obolo diciamo che non comporta grandi sforzi è fatto dei due passaggi molto semplici quindi due click il primo è sull'iscrizione di modo che il canale possa diventare insomma un punto di riferimento e il secondo è un consigliato diciamo così sulla campanella di modo che possiate essere avvisati nel momento in cui viene postato un nuovo video quindi io ho detto questo, penso di avervi detto tutto, aver presentato il canale che sarà appunto multi tema anche temi che magari non ho presentato adesso e vi invito quindi al prossimo video